Ciao a tutti vediamo come installare python andate su google scrivete python download aprite il primo sito che è python.org download di python qua ci sono le varie versioni se vi serve qualcos'altro ne vogliamo andare con l'ultima vedete download python 3.10.4 la vostra potrebbe cambiare non è un problema aspettiamo la fine del download ha praticamente finito molto bene tasto destro mostra nella cartella doppio clic prima di fare install now selezionate add python 3.10 to path in modo che non dobbiamo farlo noi a mano install now diamo i permessi aspettiamo che finisca molto bene ha finito ma il nostro compito non è ancora ultimato dobbiamo controllare che python sia effettivamente installato vi basta aprire il prompt dei comandi o scrivere cmd fate invio vogliamo scrivere due cose la prima è python meno meno version ok invio ci dice che abbiamo python altrimenti ci darebbe problemi e poi scriviamo pip meno v maiuscola che è la stessa cosa semplicemente si usano due metodi diversi per scriverlo abbiamo installato anche pip che sarà fondamentale per installare le varie librerie di python che ci serviranno quindi questo è quanto da questo momento avete python installato e siete pronti per programmare se avete altre domande su come installare e fare cose lasciate sotto un commento io vi ringrazio alla prossima ciao ciao